L'associazione scrittori Aretini-Tagete ha celebrato i 25 anni ed è già al lavoro per l'edizione 2024, un doppio appuntamento ormai consueto, quello con il premio letterario Tagete e quello nazionale Etruria, che ogni anno richiamano numerose opere ed autori, sia Aretini che da ogni parte d'Italia. Il premio letterario Tagete è arrivato alla 25esima edizione, ma è sempre riservato agli autori che sono nati o residenti in provincia di Arezzo, ha una sua tradizione e un suo ambito grande, perché ad Arezzo ci sono da sempre tanti, ma soprattutto negli ultimi anni, tanti autori di professioni le più diverse che scrivono e che pubblicano e quindi tutti gli anni arrivano libri per il premio Tagete di scrittori Aretini. Poi abbiamo creato nel 2021, proprio nel momento peggiore, nel febbraio 2021 della pandemia, il premio nazionale Etruria, che ha avuto per ora grande partecipazione e spero che con l'associazione prosegua questo premio e che possa avere anche il supporto, oltre che dei soci, delle risorse umane, dei soci, delle istituzioni, anche dei privati, perché portare in fondo questa manifestazione da febbraio a novembre, si può dire fino a dicembre, è molto impegnativo. Tra i momenti più significativi degli ultimi anni, senza dubbio, l'incontro con Dacia Maraini è la presentazione del suo libro Caro Pierpaolo, dedicato al grande amico Pasolini nel centenario della nascita e al quale nel 2022 fu anche dedicato il premio Tagete. Fu veramente un momento molto bello dal punto di vista della possibilità per il pubblico di ascoltare, perché ascoltare dal vivo un autore, uno scrittore, parlare della propria esperienza è una cosa che ti rimane.